Un progetto di inclusione raccontato dai protagonisti. La Sala della Concordia domani sarà il luogo in cui si parlerà di belle storie nell'ambito di un'iniziativa che è stata organizzata da più associazioni. Francesca, di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto innovativo dove le abilità lavorative si implementano sul campo. È un progetto denominato bagno di sole, ha coinvolto tre ragazzi con disabilità diverse, sensoriali e non. Il punto forza di questo progetto è la formazione. Grazie alla collaborazione della Confartigianato, gestori di spiagge e dell'azienda Linkout che è specializzata a livello nazionale per la formazione delle aziende, dei dipendenti, perché i ragazzi che hanno una condizione di disabilità possano essere accolti e che dall'altra parte si trovi uno stato di consapevolezza, si formi uno stato di consapevolezza proprio finalizzata al riconoscimento della persona. Domani chi saranno i relatori? I relatori appunto saranno i tre ragazzi, Tommaso, Giuliano e Giulia. Avremo appunto il sindaco, avremo l'assessore alle politiche sociali, Tarsi e Lucia. Ci saremo noi, il referente per la Confartigianato Mauro Mandolini e il presidente di Linkout Enrico Maria Fantaguzzi. Mauro, in che modo Confartigianato ha collaborato questo progetto? Abbiamo collaborato in maniera operativa, perché le nostre attività che hanno dato la disponibilità si sono rese disponibili a fare un corso per poter poi accogliere questi ragazzi nella propria attività e per poterli anche gestire magari in situazioni diciamo difficili che si potevano creare. Devo dire che i ragazzi si sono comportati benissimo, è stata una bellissima esperienza e come ho sempre detto in tutte le varie situazioni dove se ne è parlato questo progetto non so se ha servito più a noi o ai ragazzi perché devo dire che a noi come attività ci ha servito molto per crescere per vedere diciamo la vita di questi ragazzi ma con un occhio diverso. Li vediamo a volte che vivono una vita particolare ma in realtà è una vita normale come la nostra con visioni diverse e vista da un altro punto di vista anche per noi è stato diciamo importante. Dal punto di vista pratico quali attività hanno svolto? Da servire la clientela, allo sbarazzare i tavoli, a pulire gli ombrelloni, tutto quello che c'è da fare dentro uno stabilimento balneare quindi senza creare situazioni diciamo ad hoc per loro ma semplicemente facendo quello che si fa normalmente nella giornata quotidiana. Quindi detto tutto vi aspettiamo numerosi domani alle 15 presso la Sala della Concordia.